E' un messaggio politico chiaro e forte, quello che scaturisce dalla bocciatura, ad opera delle commissioni consulari, della manovra di assestamento di bilancio 2013. Questa è l'opinione del capogruppo del PDL, Michele Napoli, che avverte la maggioranza. Non saranno tollerati artifici contabili pur di tentare di mettere pezze ai conti di bilancio, né tentativi di stampo clientelare e elettoralistico. Indispensabile, secondo il Presidente della Quinta Commissione, un chiarimento sulle questioni normative che il Consiglio regionale, in questa ultima fase della legislatura, può legittimamente affrontare. Senza voler creare, dice Napoli, problemi alla gestione ordinaria, ci sono aspetti che necessitano di spiegazioni, soprattutto riguardanti la sanità, ma anche la rideterminazione del limite massimo di indebitamento. Un argomento quest'ultimo che riapre quell'antica ferita, ma esanata, dell'utilizzo dei cosiddetti derivati.